NIA 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 NIA! Miam, 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 miam. Robin, Robin, il grassone mangiava più di 80 persone. Mangiò una mucca, mangiò un vitello, mangiò il macellaio con tutto il nacello. Mangiò la chiesa col cappellano e campanile col sacrestano. E mucca e vitello, beccaio e macello, e chiesa e curato, quando ebbe mangiato così si lagnò. Che fame che ho, che fame che ho, che fame che ho, che fame che ho. Che fame che ho, che fame che ho, che fame che ho, che fame che ho. Miam, 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 miam. Robin, Robin, il grassone mangiava più di 80 persone Mangiò un palazzo, mangiò i turisti, mangiò il governo con tutti i ministri Mangiò le cime delle colline, tre castelli con le regine Palazzo, turisti, governo e ministri, castelli e regine Mucche, vitello, beccaio e macello e chiese curato Quando ebbe mangiato così si lagnò Che famme! Che famme! Che.. Che famme! 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 Che Grazie a tutti.